buonasera da trieste da domio dal crese village tutto pronto per l'inizio di questo match della quarta giornata girone b subito si inizia con un tiro in porta l'ha effettuato per la squadra dell'arrogante in divisa viola o meglio in maglia viola pantaloncini verde fluo marco marincic ciliberti parte sinistro di brun forte con deviazione della barriera si sblocca il risultato in apertura mancino secco di emil brun che complice la sporcatura da parte dell'uomo in barriera lascia di sasso giusti 1 a 0 per la mandracata su calcio di punizione angelo spinelli prende contro tempo regala un pallone a brun che ora fronteggia marincici il sinistro di brun che non perdona l'errore dell'arrogante in fase di impostazione 2 a 0 per la mandracata doppietta per emil brun contro ripartenza della mandracata dentro ciliberti che controlla e calcia col destro la parte più difficile l'ha fatta agganciando il pallone poi conclusione in diagonale che non lascia scampo a giusti altra ripartenza letale della mandracata che vale il 3 a 0 per i rossi sull'arrogante calabrese incontro germani scarico impreciso per andreasi recupera la mandracata con murano che prova a partire lascia sul posto andreasi poi tocco per marocco che fa scorrere brun per la tripletta chiuso da spinelli squadra in campo per il secondo tempo ricomincerà con il calcio d'inizio dopo il fischio di benci c'è la squadra della mandracata c'è già murano che sta preparando la rincorsa per il tiro in porta diretto parte il secondo tempo è un gran destro quello di murano leggermente largo sopra l'incrocio dei pali prevenire problemi dalle parti di biasin cercato germani spalla la porta si gira cerca lo spazio per la conclusione la prova e la trova trova un gran gol che forse rimette in partita l'arrogante tiro senza ritmo da fermo con pochissimo specchio da posizione molto angolata gran gol di steven germani 1 a 3 il risultato il pallone si è fermato poi sì ma perché jadanza c'è caduto sopra ora parte jadanza col destro forte palla che si insacca sul lato scoperto della barriera secco è il 4 a 1 della mandracata che si riporta a distanza di sicurezza gran gol di nicolas jadanza marocco fa proseguire andreasi calabrese alza la testa pensa alla conclusione prova al destro biasin così così e poi fondamentale ancora ciliberti ad anticipare germani o se non altro a disturbarlo al momento del tappin vincente morbido sul secondo palo brun non riesce ad arrestare ed è l'ultima azione di questo match arriva alla quarta sconfitta in quattro partite per l'arrogante sconfitto 4 a 1 dalla mandracata doppietta di brun reti di jadanza e ciliberti gol della bandiera di steven germani per l'arrogante tra poco spazio alla crese league con il match del girone a tra home sapori di casa e itse occhiologia vi ricordiamo il title partner di questa edizione della crese che è zanutta gli altri sponsor concessionari a trieste auto macellaria daremo frutta e verdura gomme marcello revisioni heineken e farmacia picciola alla croce bianca